Ormai tutti abbiamo in testa le lampadine LED Beghelli, perché consumano fino al 90% di energia elettrica in meno. Ma oggi c'è una sorpresa mondiale. È sorpresa Beghelli, la lampadina LED che resta accesa quando va via la luce. Così dà più sicurezza alla tua famiglia. E le lampadine LED Beghelli le trovi anche trasparenti e belle come quelle di una volta. Beghelli, le nuove lampadine LED di casa tua.